Un'idea condivisa con imprese che hanno creduto nella visione di Filippo Ruvioli e di Occhi Azzurri con il contributo del team del Politecnico di Milano. Un'idea che vede l'unione di diverse tecnologie a secco che garantiscono tempi ridotti di realizzazione e una perfetta integrazione architettonica e impiantistica. Una costruzione sostenibile che potrà diventare un esempio virtuoso anche per altre realtà del paese. Ma oggi soprattutto una unione di intenti che coinvolge non solo istituzioni e denti del territorio ma anche tante realtà che hanno portato il proprio supporto e associazioni vicine a Occhi Azzurri. È stato molto bello riunire tutti coloro che hanno dato un contributo importante alla realizzazione di questo progetto. È la testimonianza del fatto che abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo coinvolto tante persone, le abbiamo convinte della bontà di quello che stiamo realizzando. E poi anche un'altra testimonianza è la riprova del fatto che quello che stiamo facendo è un bisogno avvertito dalla nostra comunità e quindi ancora di più è importante portarlo a termine, farlo partire, farlo funzionare per dare qualche risposta in più alle famiglie come la mia che sono sempre di più. Come stanno procedendo i lavori? Direi da programma più o meno, nel senso che abbiamo avuto un piccolo ritardo all'inizio del cantiere, poi però ci siamo riallineati e adesso fortunatamente la tecnologia che abbiamo utilizzato per la realizzazione del centro è una tecnologia che permette di montare rapidamente le strutture e quindi poi di fare anche la parte tamponamento a secco abbastanza rapidamente, dovremmo arrivare a giugno quando faremo l'evento nel parco con una struttura costruita tamponata e coperta e poi i sei mesi che ci separano dalla fine dell'anno saranno utilizzati per fare le finiture, gli impianti, tutto quello che serve. Diciamo che è auspicabile arrivare entro la fine dell'anno con tutti i lavori determinati.